ehi papà robot si padrona ci serve che tu faccia una cosa vieni con noi nella stanza dei giochi subito padrona ho un'idea portaci nella stanza dei giochi subito padrona come desidera padrona papà robot noi ti ordiniamo di riordinare la stanza dei giochi servire le mie padroncine è un grande onore per me sta funzionando come rilassante dovremmo sempre riordinare in questo modo sì a dire la verità in futuro papà robot non vogliamo più riordinare la stanza dei giochi già mai mai più mai mai più mai mai più più chiaro per niente capisci sì padrona ricalcolo obiettivi che stai facendo papà robot eseguo gli ordini delle padrone mettici giù io adoro papà robot dove ci stai portando ora nella spazzatura cosa e perché voi due siete il motivo per cui la stanza dei giochi è sempre in disordine se vi getto nella spazzatura la stanza dei giochi sarà sempre in ordine e voi non dovrete riordinarla mai mai più più che cosa è un bel piano invece padrone ciao